Buongiorno a tutti. Come state? Come state questa mattina? Io ho un po' di dolori però per fortuna in questo momento non sono forti. Se un interno prenderò l'antidolorifico. Come va questa quarantena? Sono 20 giorni che siamo dentro casa. E in questi 20 giorni che siamo così dentro casa noi mandiamo a profusione. Mandiamo interattamente. Uno perché non abbiamo niente da fare perché non possiamo uscire. Dobbiamo restare così dentro. Due, per la peglia, due e tre, per la noia ma soprattutto per lo stress, per la depressione. Cominciamo a mandare tantissimo e a non regolarci. E ringraziamo. Anch'io in questi 20 giorni sono ingrassata veramente. Non tantissimo ma un po' un po' sono ingrassata anch'io. E non me lo dicono gli altri. Non me lo dice mio papà. Non me lo dice mia mamma. Non lo dicono. Ma me lo dicono i miei vestiti. Soprattutto me lo dicono i miei disegni che cominciano a starmi stretti. perché sono ingrassata un po'. Quindi, poiché, dal 2017, che sono una consulente di bellezza dell'azienda grossi, da pochi giorni sono diventata anche una distributrice dell'azienda Herbalife. L'azienda Herbalife è un'azienda che vende prodotti per dimangherire soprattutto. ma anche prodotti integratori. Ma soprattutto questa dieta che aiuta gli mani a fare una dieta equilibrata. Purtroppo questa dieta però è fruolata sostituitiva al pasto. Quindi non tutti voi sono disposti a sostituire i pasti principali con i fruolatori. Però uno prova da me. Però se non va bene o non gli piace, non lo fa più. Io voglio provare. Quindi voglio provare insieme a voi. È il primo giorno questa mattina che io provo a fare il garanzino con il fruolato. quindi non gli sfumato per prendere il maglio per prendere il quell'azienda. Quindi già in questo territorio. Il fruolato terzo del pasto è uno del pasto. 25 vitamine e minerali, ad alto contenuto di proteine. Ora vi faccio vedere il barattolo del frullato Formula 1 che è uno dei frullati che sostituiscono e basta. Dipende da quanto vuoi mangiare, dipende da quanto vuoi mangiare, perché se vuoi perdere tantissimi ghini dovrai sostituire ai due parti principali questo frullato. Adesso voglio mettere i barattoli. Questo è uno dei barattoli del frullato Formula 1 che sostituisce i basti. Questo è un gusto, ma è senza glutine e senza lattos. Si apre. E' perfetto anche per me, perché io sono sia aziendata che all'edica lattos e lattos. Questo è un gusto di vanile. E' per me, perché io sono tanti articolo di quanto vuoi mandare e perdere tantissimi ghini? dovete sostituire con questi fruttatori sia la garanzia nella mattina che il pranzo che la cena se volete prendere solo qualche clip basta sostituire ai passi due volte il frutto con il frutto bene le volte frutto la circolazione che la cena e fai ora o fai il pranzo completo o la cena completa ma io ho visto il rischio di fai un corattino con questo frutto con questo frutto fai il pranzo normale io sostituire la cena con questo frutto visto che i medici specialisti dicono che bisogna stare e dare a cena visto che poi andremo a dormire e a dormire e non dobbiamo da proprio sentire il nostro stomaco per molti per chi vuole perdere un po' di vita per chi vuole soffa ma il mantenimento dei pesi basta vai solo a cena per chi vuole soffa ma il pasto sostituire o sostituire o sostituire o comune di questi frutti che vuole soffi è io andrò a mettere e a dimenticare di farmi venire. Questo era il dozzatore che mi hanno dato in andata con questo contenitore nel fulgare questo che hanno tre anni o quattro lo sattori. E andremo a mettere due cucchini di questo dozzatore qua. Un po' più grande. Dentro 250 ml di latte e di soia o di acqua. Un po' più grande. 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 Il mio figlio è Sofia, la mia cagnonica, piccolina, cioè è me chissetta però è metà piccola e metà non si sa. Il mio figlio è venuto a piccolina a tutti gli spessi. Il mio figlio è venuto a piccolina a tutti gli spessi. Il mio figlio è venuto a piccolina a piccolina a piccolina a piccolina. Il mio figlio è venuto a piccolina a piccolina a piccolina a piccolina a piccolina. La mia cagnia è venuta a piccolina a piccolina a piccolina e a piccolina. Sì E' buono anche il gusto libero sull'anno, mi piace la manina anche se non la potrei mandare sempre e anche la manina anche se non la potrei mandare sempre e anche la manina anche se non la potrei mandare sempre e anche la manina anche se non la potrei mandare sempre e anche la manina anche se non la potrei mandare sempre e anche la manina anche se non la potrei mandare sempre e anche la manina anche se non la potrei mandare sempre e anche la manina anche se non la potrei mandare sempre e anche la manina anche se non la potrei mandare sempre e anche se non la potrei mandare sempre e anche la manina anche se non la potrei mandare sempre e anche se non la potrei mandare sempre